Salve amici del Centro Meteo Italiano. Settimana a cavallo tra novembre e dicembre che potrebbe vedere un nuovo peggioramento e clima generalmente più freddo. Vediamo allora gli ultimi aggiornamenti. Italia divisa in due nella giornata di domenica con il minimo depressionario che porterà ancora piogge temporali al sud, mentre un promontorio anticiclonico garantirà tempo asciutto altrove. All'inizio della prossima settimana tutti i principali modelli mostrano un nuovo affondo sul Mediterraneo occidentale, con un minimo al suolo in formazione nei pressi della Sardegna. Fase di maltempo che potrebbe coinvolgere dapprima le isole maggiori e poi, con lo spostamento del minimo verso est, anche le altre regioni del centro-sud. Ingresso di aria più fredda con temperature che potrebbero risultare anche di qualche grado sotto media. Elevata incertezza per i primi giorni di dicembre con diversi modelli che mostrano campi di alta pressione alle alte latitudini e masse d'aria fredda in movimento sull'Europa meridionale. Trattandosi di tendenze, seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti, sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.